Ancora marasma nel mondo delle criptovalute, dopo la questione FTX dalla giornata di ieri domenica inizia la questione legata a Crypto.com ma non è solo di questo che parliamo oggi perché vi voglio far vedere anche un grafico, oggi guarderemo solo un grafico ragazzi perché non facciamo in tempo a vedere tutte quante le info e quindi l'analisi ciclica e tecnica facciamo nel video di domani ma oggi definiamo un pochettino di cosette, poi vi faccio vedere un grafico alla fine del video che vi apre poi la porta a quello che è la questione di domani appunto dove affronteremo solo l'analisi dei grafici. Allora intanto facciamo un recap della questione legata al fallimento di FTX ragazzi ancora Sam SBF continua a pubblicare, non si capisce cosa, su Twitter proprio pochi minuti fa ha tirato fuori l'ennesima messaggio sta comunicando a lettere, cioè psicopatia ormai senza limiti, guardate qui che cosa sta tirando fuori da questa... ieri ha tirato fuori a 14 ore fa un watt, poi ha buttato un hack, adesso una hack 40 minuti fa, non si capisce che cosa vuol dire ma non si capisce che cosa ha nella saccoccia se ha qualcosa da dire di importante o meno, vabbè FTX scamma quindi froda totalmente, questa è l'ultima informazione che è rimasta non c'era altro modo di far fallire un exchange come FTX che aveva una super piattaforma di trading altamente evoluta altamente liquida, altamente funzionante, l'unico modo era rubare soldi o fare cose strane ragazzi e questo è proprio quello che hanno fatto. Facendo un po' il punto della situazione io credo che la questione di FTX non sia stata neanche evoluta da CZ, ne parliamo adesso anche sulla questione di CZ perché sta tirando fuori, questo è tweet anche nella giornata di ieri, ha tirato fuori l'ennesimo tweet contro il competitor Crypto.com, sembra una partita a risico di una persona che sta tentando in tutti i modi di andare a distruggere il competitor, non è proprio così perché ovviamente non è un personaggio che fa magari una guerra aperta, però tanti atteggiamenti non sono giusti, ne parliamo anche in questo video e poi parliamo di Crypto.com perché ha problemi, può fallire, che succede, come si valuta un exchange ma è indovinato un po', non stesso identico modo in cui si valuta e valutavamo prima allora io direi di partire dalla questione di CZ che proprio pochi minuti fa tra l'altro ha finito una ama che ha fatto, ha detto una serie di cose di cui dovremmo parlare intanto, primo punto, dopo la questione della scorsa settimana, secondo me si è reso conto anche lui che ha fatto cose che non voleva fare, cioè ha tirato fuori con un tweet una macello colossale perché secondo me non era assolutamente consapevole delle prodi che c'erano dietro FTX perché a quanto sembra solo Sam lo poteva sapere, tant'è vero che anche gli altri grandi fondi nessuno aveva prelevato i fondi da FTX ragazzi questo è ovvio perché se qualcuno lo sapeva avrebbero prevato tutto la stessa Binance non è riuscita a vendere gli FTT perché ha detto che li vendeva per spalmarli sul mercato ma non c'è riuscita perché FTX è andata praticamente quasi a zero quindi non c'è riuscita quindi si è autotanneggiata per un 250 milioni di dollari magari per loro non sono nulla però comunque un danno l'ha subito quindi sia da questo punto di vista nella sua ama ha tirato fuori poi una serie di cose per tentare di risollevare un po' il mercato intanto dei punti fermi che hanno tirato vogliono fare un fondo per salvare i progetti non i customer crypto che subiscono delle crisi di liquidità in pratica ragazzi Binance tira fuori l'idea di una specie di banca centrale ve la prendo tra virgolette ragazzi ovviamente non esistono queste terminologie quindi dobbiamo improvvisarci un pochettino per una specie di idea di banca centrale che vada a sopperire alla crisi di liquidità di singoli progetti che insomma possono avere crisi di liquidità a causa di crash come questo qui ora si proteggono tra di loro chi è che gestirà questo fondo chi è che fa il capo di questo fondo non c'è una legge, non c'è niente vabbè non mi piacciono molto queste cose qui perché se il mercato crypto deve essere non regolamentato quindi non protegge nessuno perché la regola delle biologie diciamo quindi frustrante e cattivella del fallimento degli schiappi in faccia poi nel lungo è migliorativa allora la lasciamo non che poi proteggiamo i progetti perché proteggere i progetti? allora a questo punto è nonno i customer che vi hanno fatto i customer va bene che la struttura deve risalire ma se un progetto ha prestato liquidità x e y non ha sbagliato anche il progetto non è che sbaglia solo il customer no vabbè comunque delle idee delle proposte che secondo me sono più volte a calmerare quella che è la situazione che Zizi stesso ha creato involontariamente secondo me praticamente involontariamente se non erro se non chiede comunque però il lupo perde il fenomeno nel giorno di ieri tira fuori la questione su Crypto.com che è stata cattivissima perché ragazzi Crypto.com ha spostato un billion no scusate non un billion 400 milioni il billion è uscito fuori poi dopo su FTX per un'operazione che loro dicono hanno sbagliato però confermata anche da Ghetta.io insomma non si capisce bene che hanno fatto che poi le questioni degli exchange centralizzati siano un po' sempre in ombra e questo ragazzi ormai l'abbiamo capito però a un certo punto vabbè tira fuori questo tweet vediamo se lo trovo di ieri dove di nuovo incomincio a dire che chi fa una cosa del genere bisognerebbe starne fuori stai safo eccetera allora di nuovo puntualmente questa questione allora io ho puntualizzato ragazzi che non credo che si sia in malafede ci mancherebbe non avrebbe molto senso poi non so se sta usando queste cose a livello di business per aggredire i propri competitor visto che sono vulnerabili perché a quanto sembra Sam diciamo era uscito di testa diciamo a fare cose senza senso ma concettualmente c'è un problema di fondo se nel mercato old classico normale una persona fa una cosa del genere e su twitter si mette a dire cose del genere su un competitor lo arrestano in dieci minuti allora questo è concettualmente quello che sto cercando di farvi comprendere questi sistemi non sono sistemi adeguati a personaggi di un certo valore ora che sia il discorso che mi proponi il recovery found come lo vogliamo chiamare questo fondo diciamo per i progetti in crisi di liquidità mi sta benissimo che si prendono le rating del mercato crypto cercando di avere delle linee guida come la Proforeset giustissimo su tutte cose giuste però non si può parlare di competitor e neanche indirizzare l'utente ad avere una food la FAD diciamo quindi a prelevare dagli utenti mandandoli in bank run in crisi di liquidità tralasciando il concetto che se un exchange non fa delle prodi allora ragazzi problemi di fallimento non ce sono questo è il discorso a meno che non stanno gestendo male gli utenti perché anche su questa questione di crypto.com bisogna ragionarci proprio in questa ottica anzi vi faccio vedere come Chris ha retto bene il colpo al momento anche perché ha fatto un ama e ha indicato una serie di punti dove lui dice dove stanno i fondi e tutto il resto e poi i withdrawals sono processati come sempre e non ci sono problemi io stesso ho fatto una serie di tentativi di prove non avevo nulla ragazzi perché poi c'è da fare un cappelletto alla questione di crypto.com e quindi ho prelevato alcune cose che erano sull'exchange e qualche bolletta che era rimasta lì diciamo non avevo nulla non uso l'exchange crypto.com e l'ho prelevato senza problemi se non che c'è stato un problema con il codice ma era una cosa mia non loro poi l'assistenza comunque dopo 24 ore mi ha assistito eccetera però c'è da dire una questione a meno che la proof of reserve che adesso vediamo anche Nansen che ha dato la proof of reserve ragazzi vi ho pubblicato anche il link e lo vediamo insieme perché è molto importante questo link di Nansen dove voi potete andare a controllare tutte quelle che sono le proof of reserve al momento degli exchange non sono complete già ve lo dico ma un minuto che ve lo spiego insomma queste cose così magari riusciamo a leggerle bene quindi finiamo il discorso di Chris in generale loro insomma dovranno dare la proof of reserve eccetera ora ragazzi nel caso di crypto.com sicuramente ci sono diversi punti che si possono tirar fuori cioè l'exchange di crypto.com rispetto a FTX ovviamente era una barzelletta diciamo così quindi non è sicuramente un exchange che si rivolge a un pubblico di professionisti come era quello di FTX è più un retail quindi avete visto che insomma dentro ci stanno le shiba eccetera però concettualmente questo non cambia il discorso di fondo sul fatto che un exchange per fallire ragazzi deve fare investimenti con i soldi dei clienti rubarseli o sbagliare a leva non si sa cosa cioè fare prodi costanti e avere degli atteggiamenti poco prudenti diciamo così non c'è altro modo perché anche lì è un casino quindi anche se quello di crypto.com ragazzi magari non fa le fidi FTX non è un business non è un business florido con FTX sicuramente non lo è comunque fa soldi fa revenue anche lui fa il revenue quindi anche lì se questi non stanno scammando come Sam cioè non hanno fatto imbrogli e roba del genere non succede niente quindi me lo ribadisco come era il discorso di FTX la questione di FTX è stata legata appunto solo a brogli non c'era nessun altro modo di far fallire quell'exchange e così è stato allora se qui abbiamo poi il CEO che dimostrerà che tutto il regolo non ci saranno problemi probabilmente su queste cose però è ovvio ragazzi che un po' di FUD c'è stata e quindi moltissimi fondi sono stati prelevati nell'ultima settimana forse più di un miliardo è fuoriuscito degli exchange cioè stiamo assistendo comunque a una reset del mondo delle cripto di nuovo però con problematiche che erano le stesse del 2016 2017 per chi c'era e questo ve lo dico in maniera molto chiara da un punto di vista di persona che ama questo mondo è assolutamente vergognoso perché assistere a una cosa del genere che è stata già una questione replicata agli anni che furono cinque anni fa sei anni fa vuol dire che non abbiamo imparato nulla e soprattutto che questo settore non ha fatto progressi sufficienti a eliminare una delle prime problematiche cioè le questioni legate ai checks allora molti stanno dicendo ci vogliono regolamentazioni molti no ci sarà da lavorare molto però la questione su questa cosa qui indubbiamente indica un fallimento di questo mercato ci sono alcuni che dicono dobbiamo andare tutti in DEX i DEX però non sono assolutamente pronti che sarebbe il top ci mancherebbe però non sono pronti per avere piattaforme di trading adeguate perché non sono sufficientemente liquidi non hanno volumi adeguati e non sono in grado di avere delle fee adeguate per un mercato come le cripto e avere dove si può fare trading non hanno neanche gli strumenti per fare trading e quindi da lì c'è un gap tecnologico sui DEX c'è un gap enorme tecnologico che necessita di essere probabilmente di dissolto se non che poi ci sarà tutta una serie di questioni legate ai DEX che magari i ragazzi devono essere ancora affrontate come per esempio se possono essere hackerati in qualche modo se ci può infilare a fare qualche attacco mentre passa l'ordine non lo sappiamo su tutte cose che vanno viste poi un domani ma sicuramente a livello tecnologico i DEX per fare trading o sviluppare questo mercato sono anni e anni indietro quindi non è una possibilità plausibile oggi lavorare su quegli ambiti perciò i CEX quindi i CEX sono ancora estremamente importanti per l'adoption del mercato del mondo del crypto a meno che non si vive in una bolla ci mettiamo il cappello parlante di Harry Potter sulla testa e ci inventiamo favolette la cenerentola e babbo notale che chiaramente moltissimi fanno ancora allora sognare è bellissimo però piedi per terra perché non possiamo fare passi più lunghi della gamba quindi essere visionari è corretto ragazzi però andare a dire fesserie colossali di cose che magari capiteranno da qui ai prossimi dieci anni non ha molto senso quindi intanto sogniamo che è bello però poi mettiamo i piedi per terra e diciamo cosa serve ora altrimenti restiamo solo a sognare detto questo vi faccio vedere il portafoglio di Nansen come si va a guardare quello che significa questa cosa qui allora vi faccio vedere intanto per esempio guardiamo ok ragazzi mi sono messo in pausa non so da dove si è fermato riparto questo è il portafoglio di Nansen quello che vi lascio anche il link in descrizione l'ho pubblicato sul mio twitter qui vi faccio allora ragazzi ecco il portafoglio di Nansen non so perché mi si ferma la condivisione la registrazione vabbè abbiate pazienza allora per quanto riguarda il diciamo questa è quello di crypto.com intanto c'è da specificare come si legge questa analisi che è scritto qui questi sono i network dimostrati dai wallet degli exchange che sono indicati dagli exchange e sono presenti nelle blockchain però lo stesso Nansen mi dice che non è assolutamente esaustiva questa cosa qui perché mancano ad esempio altri wallet che magari gli exchange possono avere oppure delle riserve oppure degli edge e soprattutto non si distingue tra quelli che sono quello che hanno che possiedono gli exchange per se stessi ad esempio oppure che sono dei loro customer quindi anche qui c'è stata la questione che per esempio viene indicato sul exchange di crypto.com che ci sono le shiba e che quindi insomma possedere shiba ino per il 21% non è proprio il top in ogni caso vi ho spiegato come vanno letti comunque è interessante magari andare in ogni caso a dargli un'occhiata questo è quello di crypto.com e questo per esempio è quello di Binance che come vedete mentre in crypto.com ovviamente possiede magari le shiba però Binance ragazzi ha il BUSD e cioè ha molte stable di cui però una è la sua quindi anche qui bisognerebbe andare a esplicitare molto meglio queste cose qui quindi prendetele con le pinze le indicazioni perché quelle o chain non sono mai precisissime su il significato che dobbiamo dare quindi sono molto soggettivo quindi vanno prese con le pinze però questo tool lo potete andare a controllare per vedere un po' i movimenti che fanno e se in effetti i depositi ci sono e quant'altro va bene detto questo passiamo al grafico l'unico che vediamo così poi vi rimando al video di domani invece sull'analisi tecnica e ciclica vediamo se SBF ha pubblicato un'altra lettera non l'ha pubblicato mamma mia che situazione ragazzi anche questa cosa qui intanto come vi dicevo fate molta attenzione anche sulla questione di Crypto.com soprattutto continuate a seguire su Twitter tutte quelle che sono queste analisi perché qualsiasi cosa esce la sappiamo prima proprio da Twitter che è un po' la nostra tv nel nostro megafono quello delle criptovalute quindi andate lì a guardarvi un po' di cosette andiamo avanti sulla questione che volevo farvi vedere il grafico che secondo me è molto importante e apriamo poi a quello di cui parleremo domani ragazzi allora questo è il grafico della total market cap del criptovalute compresi anche Ethereum e BTC vi faccio vedere la struttura ciclica questo grafico io non l'ho modificato dall'ultima volta che lo abbiamo guardato che sale a mesi mesi or sono quando vi avevo anche indicato la famosa famosissima questione della possibilità che novembre fosse un mese di chiusura ciclica rilevante perché nella struttura della total market cap delle criptovalute che noi possiamo guardare non per operarci perché non potete andare a fare trading sulla total market cap delle cripto mi pare che non ci sia ancora l'indice tra le altre cose ma possiamo guardarla per avere un'idea ciclica dell'intero mercato compreso bitcoin ed ethereum quindi questo è significativo perché in ogni caso è vero che tutto dipende molto da ethereum da bitcoin perché bitcoin rappresenta il 40% di questo indice e quindi è ovviamente un grafico che guardiamo che è dipendente molto da bitcoin però l'altro 60% da questa zona qui per esempio perché prima qui era solo bitcoin l'altro 60% in questa zona è anche dipendente da altre cripto e siccome ci è stato una buona differenza diciamo un buon distaccamento negli ultimi mesi soprattutto della regina delle cripto è interessante andare a vedere la sua struttura ciclica dal minimo del 2015 gennaio fino al minimo del 2018 il mercato cripto ha fatto un ciclo da 1428 giorni che in pratica ragazzi costituisce in sostanza un ciclo quadriennale famoso ciclo dell'alving e quant'altro lo stesso ciclo in questione era in fase di chiusura proprio a novembre il motivo per il quale abbiamo sempre indicato questa data come una data ciclicamente molto rilevante in termini di lungo periodo perché lo stesso 4 e 28 viene riportato proprio a novembre del 2022 e questa la seguiamo ormai da quasi un anno ragazzi questo grafico a novembre 2022 la scorsa settimana che oggi è iniziata la nuova il mercato delle cripto ha fatto un minimo ve lo faccio vedere è incredibile la precisione di questi grafici a volte resto sconcertato perché io non credo nelle megie ovviamente e non penso però alcune volte ragazzi sono veramente scioccanti queste cose vedete qui abbiamo un nuovo minimo leggermente inferiore 736 billion contro il minimo di giugno che è 762 billion quindi siamo andati sotto sul minimo del 22 novembre della settimana del 7 novembre scusate e tra le altre cose il minimo confermato anche in close della settimana questo quindi è appunto un minimo non c'è né i né a né o la questione ciclica indica che siamo a un ciclo molto lungo che però io sto facendo partire su questo minimo che è quello della settimana del 21 giugno del 2021 ma in realtà è una shadow ragazzi tant'è vero che si può tranquillamente farlo partire su questo minimo in close perché questo non è un grafico di una cripto questo è un grafico aggregato se così facciamo vedete che la struttura ciclica di lungo si divide appunto nel famoso 480 490 sono molto simili poi in ogni caso sono molto anche lunghi perciò su questo poi dobbiamo ragionarci meglio magari nel video di domani andando a valutare una serie di cose e anche il motivo per il quale io vi dicevo da un sacco di tempo aspetto il 15 aspetto il 15 cioè aspetto questa settimana significava proprio perché volevo capire un po' di cose Ethereum il minimo non lo ha fatto ragazzi e questo significa che se da un punto di vista di ciclo annuale Ethereum non ha fatto il minimo probabilmente dobbiamo capire un po' di cosette nei prossimi mesi perché a meno che non si è delegato totalmente da Bitcoin è difficile che Bitcoin abbia un ciclo annuale in chiusura adesso è più probabile che l'abbia fatto a giugno però è anche vero che Bitcoin è più forte di Ethereum è più importante di Ethereum quindi al momento lo possiamo valutare e pesare di più ma di questo ne parliamo domani era questo il grafico che volevo far dire perché alla fine di un ciclo ne inizia uno nuovo quindi se questa zona venisse effettivamente confermata dal mercato non vi ho detto che abbiamo fatto i minimi vi sto dicendo che a livello tempistico siamo in una fase dove il tempo dice che ci stiamo vi faccio vedere anche un'altra cosa che è quello che è la distanza tra l'ultimo ciclo di Bear Market che è stato tra il massimo del dicembre-gennaio 2018 è il minimo che era dicembre 2000 scusate questo è dicembre-gennaio 2017 qui indica la settimana del 2018 quindi è gennaio o dicembre 2017 o gennaio 2018 che chiude poi a dicembre 2018 questa annata qui se andiamo a controllare ci siamo alla perfezione guardate qui anche un anno di ribasso un anno di ribasso le strutture dei tempi indicano quindi che la possibilità che il mondo cripto vada nelle prossime settimane verso un nuovo una nuova struttura ciclica quadriennale ci sono che questa struttura ciclica quadriennale sia negativa sia positiva sia una burran è una cosa che invece dipende dai prezzi ed è questa la vera differenza quindi tempo e prezzo non sono la stessa cosa il tempo ci indica che probabilmente iniziamo un nuovo ciclo ma il prezzo ci indicherà se quel ciclo sarà un nuovo ciclo ribassista magari speriamo di no a laterale o in burran quello è un altro discorso ed è tutto da fare nei prossimi video e da vedere anche live giorno per giorno ragazzi va bene allora vi ho fatto vedere questo grafico qui fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate lo affrontiamo nei prossimi giorni lo riprendiamo nei prossimi giorni io aspetto ancora un pochino però non vi nascondo che contrario a tutti se i miei sistemi e anzi ho già lanciato in academy in questo momento una possibile idea generale dove andiamo tutti insieme a fare delle cosette io vado a fare un po' di shopping qualora sia necessario e durerà qualche settimana quindi se ancora credete che fare buy and hold sul settore delle cripto di progetti cripto non di bitcoin ed etinium sia la cosa giusta da fare nei prossimi giorni vi svelo le offerte black friday dei miei corsi così vi studiate il modulo premium del portafoglio cripto e capite perché questa cosa non si può fare nel settore del criptovalute va bene dai ragazzi scherzi a parte ci vediamo domani con le analisi precise sui cicli ciao ciao